ciao ragazzi allora io con questo video volevo dirvi che sto cercando cioè sto cercando voglio farvi diventare clienti privilegiate di Yves Rocher cioè voglio farvi avere uno sconto del 15 per cento su tutti gli ordini che farete e per questo che si chiama appunto clienti privilegiate perché avete il privilegio di avere 15 per cento di sconto sui prodotti ad uso personale e non significa diventare venditrici Yves Rocher assolutamente solamente avete questo sconto per avere questo sconto basterà fare un ordine di minimo 35 euro per esempio questo qui è il catalogo di natale vedete che con 39 euro 95 avete il cofanetto elixir jeunesse crema giorno contorno occhi e acqua micellare oppure potete prendere con 39 95 cofanetto anti age global crema giorno e crema occhi oppure sempre 39 95 il cofanetto rich crema viso crema giorno contorno occhi e questo cos'è ed è in che era in tender gente va beh questo è un'altro cofanetto mi rimasta fare appunto un ordine di almeno 35 euro dopodiché vedete io intanto sfoglio mentre parlo sfoglio così magari se c'è qualcosa che vi interessa acquistare lo vedete subito e bisognerà inviare la copia di un documento di identità fronte retro perché l'azienda vi spedirà i prodotti a casa e quindi si deve tutelare perché il pagamento è posticipato. Inoltre entrando in possesso del vostro indirizzo deve tutelare i vostri dati. Ecco tutto qua. Quindi siccome ho ancora un posto libero nel mio gruppo vorrei trovare un'altra persona appunto per regalare questo sconto. Poi se ne trovo di più meglio ancora. Quindi una rapida occhiata, veloce così. Vedete queste sono tutte le offerte di Natale 12,95. Forse l'ho anche già fatto vedere questo catalogo. Ci sono tante opzioni. Appunto si deve fare un ordine minimo di 35 euro, massimo 180 se non sbaglio. Ma il massimo non è un problema. L'importante è che non sia inferiore ai 35 euro. Questo 29,95. Ok? C'è il cofanetto vaniglia, il cofanetto al cocco, quello all'oliva, quello al mango e coriandolo. Questo è molto molto buono. E tante cose. In più il bagno doccia, il kit crema mani, i trucchi, rossetti, le palette, la mascara, gli smalti. Queste sono molto belle tra l'altro. Ecco io mi fermo qua un attimo perché altrimenti il video dura troppo. E niente, mi raccomando, affrettatevi se volete fare, e avere lo sconto prima di Natale perché l'ordine va inviato entro il 4 dicembre. E niente, un bacio. Ciao!